e bella a tutti ragazzi di questo mio novissimo video di fortnite oggi si siamo usciti un nuovo video finalmente dopo tanto tempo sta giocando un mio amico qua saluta ciao allora non sentirete niente perché si può dire che lui si è in cuffia mica lo puoi togliere stefano comunque oggi che faremo aiuto se sei già stato mochillato complimenti si lo so c'è la casa ma non stai facendo un video giusto si veramente allora spedizioni e poi lo mando è bella a tutti ragazzi e tornati questo nuovo video eh non vi siamo video di cazzo che oggi adesso è perché non l'avevo concentrato bene è mio comunque il video si lo so però non l'avevo concentrato bene capito quindi ce ne facciamo un'altra si adesso ce ne facciamo un'altra però ci impegniamo un po' di più si concentriamo meglio vai e dopo giochi tu però eh e dopo giochi tu eh no Stefano allora mi potete assolerare Stefano non pubblicare video perché se sbaglia e non vince fa schifo il video eh e lo metti io non ne vincevo neanche una nella serie normale di fornet e va bene infatti non ne mette che c'è anche progettivo ma cosa cazzo male frega a me amici neanche a me oh saluti a tutti gli haters un vaffanculo alle chiacchierone invidiosi ecco raga condividete questo video con tutti gli haters e li dite mettete 100.000 like per questo video eh ragazzi oh quanti like? 5.000 almeno 5.000 5.000 5.000 ne portiamo un altro avvicinati un altro po' vai cazzo mi prendi bene oh adesso si vede che è la bellezza di Dio Simone voglia proviamo a vincerla si oh se volete un altro video lasciate like se non lasci like sei un powerone se invece lasci like sei uno stepney Simone ora è zitto quindi commenterò io la sua partita e io non gioco perché sono sbrocco oh se volete un ritorno su fortnite su switch lascia like perché lo faccio anche se perdo lo faccio va bene oh se perdo non fa niente però tanto raga sapete una cosa che questo canale è pieno di ignoranza quindi raga altro che hashtag menchia raga hashtag bimbi menchia nei commenti raga ricordate che questo video lo pubblicherò veramente su youtube e non ci saranno tagli quindi tutto quello che voi avete visto non verrà censurato niente perché voglio fare un video senza tagli se simon ho di come togliere le cuffie così magari sentono anche loro no non c'entra di più con le cuffie che caccia vabbè amici questo video sarà senza audio però poi farò delle partite io in solo anche a casa tanto amici la prossima settimana ricomincia la serie di fortnite quindi lasciate like assolutamente amici lasciate like se volete altri video su questa serie siamo tornati finalmente e forse più potenti che mai vorrei dire che simone è concentrato ma dato mi viene da dire che un che è una persona brutta e basta no dai raga non abbiamo certi argomenti in video sinceramente se volete una mia partita in solo voglio che lasciate un paio di mi piace assolutamente anzi se volete il ritorno di questa serie su il mio canale e se li volete simone nel canale voglio che lasciate like assolutamente non ci fa finire con cosa con il provare tutti ah che figo e questo è il mio primo video della season 9 quindi a lei finalmente sono riuscito a portarvela anch'io siamo già a 5 minuti simon dobbiamo fare veloce dobbiamo far divertire la gente ci stiamo solamente facendo annoiare diciamo raga la volete nel prossimo episodio è la deltaplano challenge nel senso che lì dovrà chiudere gli occhi io gli dovrò mettere un deltaplano a caso e quello che gli capita dovrà prendere tutte le cose tipo con i potenziamenti viola dovrà prendere solo la roba viola e devo parlare per forza eh amici mi sembra che qua c'è qualcuno no 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 però però c'è roba qua c'è roba però c'è roba raga andiamo qui a vedere ahiaiaiaia questa è già aperta raga tanto se gioco io raga vi mettete a ridere perché sono arrugginito eccolo non posso stare zitto ci vai parla no non mi direi sei zitto perché se questo video non avrebbe senso chi c'è eh eh moco è difficile però eh eh sono giocatori siamo in quanti siamo i giocatori 38 bella signor magari questa qua ce la vinciamo anche easy i o con solo solo eh hanno già aperto un po' cazzo però raga la grafica non mi piace per niente di questo telefono perché? perché ha colori troppo accesi meglio riusciamo a quanti like chiedi 50 mila milioni like eh eh porco tu è entra qua entra qui prendi prendiamo tutto raga dobbiamo prendere tutti i loot diciamo a me che puoi cambiare l'impugnatura a me mi insegnerò a giocare ad un hub a fornite vediamo vediamo siamo in safe qua qua andiamo a prendere la pistola che c'è qui eh questo pombo ci vuole a fare siamo già entrati qua giusto? qua siamo già entrati si no no si c'è gente 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 io appena quel quando ero forte faccio i cuori adesso raga sono diventato di nuovo scarso perché ho staccato ok ok questo pomino ok eh ecco la pietra no eh no ma che eh dietro no amici questo video può finire qua noi ci vedremo nel prossimo video e no la continuiamo di nuovo no io ho finito i minuti devo staccare ma cosa staccare devo staccare il video devo far durare 10 minuti no aspetta girala facciamo un altro video non posso girare vabbè tu lasciala facciamo un'altra partita però questa partita deve essere impegnativa eh ok no no mi devo continuare facciamo un altro episodio però ce la devo staccare perché non mi dura più di tanto vai vai quindi amici ci vediamo nel prossimo video lasciate like se volete una partita seria di simone like ciao raga grazie